Little Nightmares è uno di quegli giochi indie che secondo me è un po' di culto ma indie sempre per modi di dire oramai un po' di culto perché ha una sua lore ha un bellissimo immaginario ha uno stile inconfondibile di recente abbiamo giocato Brumble che ha uno stile palesemente ispirato a Little Nightmares e Little Nightmares l'ho già giocato compresi di DLC, seguito ma di recente hanno annunciato il trailer del terzo capitolo che vorrei fare in live quando uscirà quindi ho pensato di portare in live e poi ricaricare e tenere salvata la playlist per il futuro Little Nightmares apposta per affrontarlo insieme chi non lo conosce se lo vede e poi saremo pronti quando uscirà il terzo capitolo anche se siamo molto in anticipo probabilmente quindi vedremo che cos'è Little Nightmares? vi chiederete secondo me si spiega da solo giocandoci quindi non perdiamo tempo se siete d'accordo andiamo su nuova partita la cornice si ha questo giallino che è in tema con l'impermeabile della protagonista nuova partita via piccoli incubi esattamente poi ditemi se l'audio è ok l'ho già abbassato preventivamente vediamo una figura incappucciata no sono dei capelli sembrano dei capelli lunghi uno chignon forse una figura femminile era un brutto sogno e ci svegliamo così siamo all'interno di una stanza che perde acqua in mezzo delle tubature e in una valigia che sembra essere anche il nostro letto quindi abbiamo viaggiato all'interno di una valigia arrivando in questo posto vi fate sapere se l'audio va bene se è alto abbastanza per voi se no lo alziamo un pelino forse è rimasto un pochino basso proviamo un attimo i comandi come vedete il gioco è praticamente a scorrimento laterale però è anche 3D cioè c'è la profondità alziamo un pochino va bene facciamo così quindi non è che ti da una grande introduzione il gioco noi noi iniziamo sembra esserci qualcosa c'è qualcosa di rotto non mi ricordo i comandi però mannaggia come faccio a spostare le cose il mouse il cursore che si vedeva non serviva neanche vabbè andiamo avanti dicevo il gioco non ci non ci fa capire quasi niente però c'è un dettaglio subito sia a livello di suono che di visuale che se notate capite dove ci troviamo soprattutto qui fateci caso una lanterna usa F per usare l'accendino cioè premi F per usare l'accendino ok abbiamo fatto un po' di luce ok il mouse mi serve per aprire le cose tubature caldaia una nave no non siamo sicuramente Ibiza questo è poco ma sicuro non siamo Ibiza una fogna in uno stomaco come in uno stomaco in delle fauci mi piace come risposta beh dai ragazzi io non dico niente però questa ambientazione in questo gioco è davvero fantastica bene giusto per chiarire ci sono dei collezionabili in giro se non ricordo male questo questa bambolina forse è un collezionabile non lo so però ok si andava rotto ecco com'era però vi vi dico già che non me ne frega niente di prenderli quindi non li cercherò sappiatelo ho visto passare una figura nell'oblò sarà meglio spostarci da qui non posso ok devo appendermi e buongiorno come mai cosa è successo tra l'altro la nostra protagonista è una bambina praticamente guardate quanto è piccola rispetto questo adulto le proporzioni sono volutamente esagerate se dovessi alzarmi saltare e appendermi non posso farlo perché ho bisogno della sedia giustamente saltiamo su yes penso di dover salire lì sopra però però prima c'è un segreto qui sì credo sia un segreto come cazzo si faceva ad accendere sto cosa ok anche questi cosini che non sappiamo cosa siano questi questi follettini che abitano sto posto sono una sorta di side quest nel senso che trovi le stanze nascoste gli accendi il focolare e e e hai fatto essenzialmente però anche questa cosa non sarà un obiettivo si chiamano si chiamano nomini va bene allora saliamo da questo bel cesso vediamo se no allora il gioco essenzialmente poi si compone di puzzle ambientali per superare gli ostacoli il problema è che già non mi ricordo dove dovesse andare sicuramente devo salire sopra però c'è qualcosa che da aggiungere per salire o mi devo arrangiare così sai devo arrangiarmi così e come ci arrivo lì sopra questa non posso spostarla beh purtroppo dobbiamo già precisare io il gioco lo conosco quindi non potete farmi spoiler però non mi ricordo come risolvere i vari indovinelli non cominciate a fare la guida in chat che non ve l'ha chiesto nessuno e rompete solo i coglioni nel momento in cui serve ve lo chiedo io mod se qualcuno dà suggerimenti non richiesti al fine di spoilerare potete mutarlo fino a fine live la sedia non posso portarmela di lì questa cosa qui no non posso raccoglierla va bene che bello anche in questa serie abbiamo dovuto fare la precisazione pallosa odiosa anticlimatica di dover dire no ragazzi mi raccomando non fate bla 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 che palle madonna considerate che a me mancano anche i comandi non so come torniamo indietro ragazzi vediamo indietro una serie di messaggi eliminati sì ma io non vedo che state mutando mutate fino a domani per piacere non sto scherzando avete eliminato il messaggio mute tutto fino a domani non me ne frega un cazzo anche perché cioè al posto di concentrarmi su dove devo andare mi tocca stare qui a moderare la cazzo di chat cioè datevi una svegliata porca troia ecco è la prima volta che esce il mouse dal dalla schermata cioè a cominciare ma io posso tipo non posso fare sta cosa vero tipo appendermi al signore allora c'è un problema di little nightmers che avevo totalmente rimosso ovvero i controlli sono una roba da bestemmie infinite quindi preparatevi perché questa cosa vuol dire che non serve una minchia la porta non si muove più potrei andare in giro con la ciabatta e fare tipo suocera o nonna che picchia tutti con la ciabattata questa non la posso portare di qua allora guardiamoci bene in giro purtroppo l'inizio sarà la cosa più 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 lunga perché non ricordo bene le meccaniche e i comandi io penso di dover andare sopra però non capisco in che modo questa scatola qui non me la fa spostare ma non è che devo andare semplicemente dal nomino e farmi i cazzi suoi fatemi controllare che non ricordo questa cosa amico nomino è qua la soluzione è qua che si scappa che si va avanti mi sa di no allora bisogna far così ho capito muoviti guarda su guarda le frecce per spostare la visuale salta lancia spazio scatta accendi no cuccia scivola prendi non ci sono comandi strani quindi ma allora dove cazzo la vuole che io guarda ok era easy era giusto aprirlo tucano grazie per i 21 mesi bentornato non ci avevo pensato perché quando l'ho aperto si è spostato il nomino quindi avevo detto ok questo è per per scatenare il bonus invece no è parte subito del proseguo ok quindi massima attenzione a qualsiasi elemento anche modificabile direi come si fa a salire così sempre col click caduta una sanguisuga dal soffitto noi ce le spattiamo le palle andiamo avanti non vogliamo sapere se sono nocive vero va bene così ok abbiamo già dato una bella accelerata direi merda sanguisuga sanguisuga ed ecco cosa ti fa la sanguisuga se ti cattura muori fine via 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 subito non guardarti indietro iniziate a capire dove ci troviamo guardate le pareti di questo posto merda mega merda super merda calmi ok non siamo caduti va bene una specie di fucina un manicomio ragazzi la visuale dondola concentratevi su questo dettaglio ok è davvero terribile tutto sto buio non sai dove stai mettendo i piedi ok oh perfetto un po' di luce mi dispiace ora se lascio andare torna indietro certo che torna indietro che domande corri corri come un bastardo no no ma pensavo di aver fatto in tempo ma non è giusto è perché non ha corso come un bastardo io gliel'ho detto cazzo spingi scatta muoviti scatta cristiano ronaldo perché poi in realtà cristiano ronaldo non faceva le scivolate non era il difensore ma vabbè fa niente non avrebbe non avrebbe fatto effetto tipo dire sergio ramos aspetta un attimo eh vedete se fate attenzione all'ambiente ci sono tutti i bonus da sbloccare cioè tutte le cose secondarie carine che noi non faremo beh quello che vuole fare in questo gioco comunque è metterti nei panni di un bambino o bambina e farti sentire davvero piccolo indifeso in questo mondo fuori taglia fuori misura la solitudine l'inquietudine degli ambienti giganti la un po' di come si chiama megalofobia e poi stiamo tipo scappando ma da che cosa e dove è un po' il mondo di Zalca esattamente è il mondo di Zalca è passato solo a pronunciare il suo nome per spingere il nostro personaggio a lanciarsi nel vuoto porteremo anche il 2 sì 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 ok questa volta abbiamo visto molto meglio la scena è il momento di dirvi che la cosa più bella di Little Nightmares sono i suoi tra virgolette boss ma che cazzo fai stai su puoi tressi gentilmente trovare il modo ok grazie per entrare una bella latrina tutta bella scagazzata che bello ok questa porta queste sbarre sono elettrificate quindi passare porterebbe alla morte probabilmente ok bene abbiamo chiuso la porta e come vedete c'è una lieva dietro ora gentilmente potresti ah giusto io posso fare anche questo è vero avrei visto il filo connesso da questa parte poi sentite quanto quanto fanno casino tutte le cose cioè è tutto silenzioso poi arrivi tu sposti un cazzo una cassa di cartigeni che fa un casino incredibile mettiamo caso che nel gioco ci fosse qualcuno che ti cerca e tu fai tutto questo rumore non ci arriviamo forse non sono allineato bene con la leva ah ok si corri 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 non vogliamo fulminarci grazie aspetta perché il timer è ancora attivo merda ecco perché era attivo il timer cazzo ah si si fai tutto il casino che vuoi tanto qual è il problema sapete che è il mio primo ricordo il più antico forse antico il più lontano nel tempo è che io ero avevo due anni e giocavo seduto dentro un cassetto aperto cioè io ho questo ricordo che giocavo dentro un cassetto e ci stavo quindi ero minuscolo teoricamente i ricordi di quell'età svaniscono tutti però raramente magari ne conservi qualcuno e mi ricordo questa cosa quando lo dissi a mia madre mi ha detto ma avevi due anni quando giocavi in quel modo com'è possibile che ti ricordi cioè neanche non è che me l'ha raccontato ho detto ah mi ricordo no no proprio sono stato io a raccontarlo talmente era limpido il ricordo quindi proprio assicuro il 100% bene il simbolo di little nightmares è un logo con un occhio e in questo momento c'è un occhio una sorta di telecamera che illumina la stanza in un'area che sembra composta di celle o comunque di stanze molto anonime vediamo se è possibile visitarne uno o due ci sono anche dei lettini non credo sia possibile entrare vero un'aperta per sbaglio no eh fatto sta che potremmo intendere di essere in un posto dove non siamo stati o non siamo gli unici bambini in questo posto voi direte dove sono gli altri bambini eccoli cerchiamo di essere più espliciti lo sguardo dell'occhio ti pietrifica quindi le statue che ci sono in questa stanza sono bambini che sono passati di qui e che per qualche motivo stavano tentando la fuga e chiaramente sono stati tutti quanti catturati i pietrificati ora ora io penso di di poter ok cazzo ora ti è girato subito di qua dei tough golem esatto no mi ha preso nel momento stesso in cui avevo premuto shift per correre quindi non lo so bisogna stare un attimo camperati e capire perché fa la sua ronda l'occhio non col cazzo sei un po' stronzo però tornare indietro cioè fa la sua ronda ma se sente che fai casino si gira subito da te quindi devi andare piano in realtà ecco se il puzzle del frigorifero era una troiata immensa e questo ancora è semplice ci saranno poi delle robe davvero che scleri malissimo in sto gioco ve lo dico già vai ok quando è all'angolo lì bene ci sarebbe lì un nomino da da salvare però non so se serve vabbè l'ho visto proviamo a prenderlo ma non è da salvare ci porta da qualche parte ha un quadro con altri nomini tieni un po' di luce contento? è vero lì puoi anche prendere e lanciare dimenticavo questa cosa e se se lo lanciassimo nell'occhio potrebbe essere divertente senti questa fune qui ma vai a fare in culo dai figa ma porca troia ma allora eh no 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 Grazie a tutti. Beh, ragazzi, come vedete è una sorta di orfanotrofio questo. Comunque ci sono un sacco di bambini, ci sono delle gabbie. E un uomo molto inquietante si aggira tra i bambini e gabbie. Insomma, lasciamo a voi le conclusioni. Io non ricordavo che fosse adesso, quindi è stato mezzo infarto vederselo arrivare così. Questo non è un gioco che ti propone chissà che jumpscare, ma un'atmosfera di ansia e inquietudine che è davvero invidiabile. Bene. L'abbiamo superato, no? A posto, chill. Ce ne andiamo. Che dite? La fame. Molta fame. C'è un bambino, è stato immenso. Ehi, bro. Né che mi allunghi una patata. Grazie. Grazie, bro. È un pezzo di pane. Buono il pane, è vero? Il pane fresco, bello succulento, al sangue. Ma era davvero un pezzo di pane? O è stata la sua mente a fargli vedere il pezzo di pane? Dove è finito il ratto di prima? Poi, vedi, entri nella stanza dopo e c'è un cappio. Cioè, come fai a sentirti a tuo agio? In una... In una X del genere. E ancora non... Non diciamo che cos'è. Docce. Questo dettaglio è bellissimo. Che non serve... Credo, se non ricordo male, che non dovrebbe servire a niente sta cosa. Però... Ti rendi conto di quanto è profondo questo... Questo posto. Dobbiamo... Cercare, eh. Da dove viene quel cavo e disattivare la corrente. E qua, ragazzi, mi sa che odierò questo... Per questo parkour. Ecco. Bene. No! No! Non puoi farmi cominciare da qua. Ma scusa, ma la... La fiammella non dovrebbe essere un checkpoint. Buttalo di nuovo. Ribadiamo il concetto. Sì, sì. In realtà uscilla, devo prenderli il tempismo. Allora... Io non è... Allora... Ok, sì Posso salire dalla catena Dopo che Il frigor mi ha tenuto lì Fermo un attimo Ora dubito di ogni cosa Le proverò tutte probabilmente Questa scala Non porta nulla Per ora Ma lì c'è una bellissima leva Che non si muove Il marchigegno Non si muove Chiaro, no? Attaccati i muoviti Madonna Mamma mia Brutta, brutta Brutta Stiamo tornando indietro Sbaglio Chiaro Insomma, ci arrangiamo con quello che c'è. Guarda, ci sono mozziconi. Mamma mia, che angoscia sta cosa. Passa, passa, passa. Io penso di doverlo fare, no? Ehi, nomino, salve. Questo è il cappio di prima. No! Però, ragazzi, dai. Allora, certe volte la visuale qui non è molto chiara. Mettiamola così. Ci tocca rifare il pezzo. Madonna. I controlli di sto gioco. Noi stiamo controllando una bambina, quindi per forza di cose non possiamo pretendere che abbia chissà quali energie, quali mobilità. Siamo allineati. Yes! Il punto è perché stiamo tornando giù? In realtà non lo so, eh. Devo staccarmi a base, mi sa. Non posso dondolare. Oh, no. Le sanguissucche. Ma por... Ma porco il mondo, tutto il cre... No, no, il cre... Il cre... Il cremino, il dolce. Il dolce, la crema. Il dolce, la crema. Vabbè, non è più nemmeno. Il cretaceo. Porco il cretaceo, mamma mia. Davvero. Non era... Cioè, non sarebbe stata una bestemmia, comunque, eh. Non è che... Tecnicamente non lo era. Vabbè. Ah, abbiamo... Abbiamo interrotto la corrente, giusto? Nice. Fico. No. Avete capito cosa devo fare? Guarda il troll finale. Il troll finale! Qua, se correvo, mi fotteva tantissimo. Vai, 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 vai. Ehi, ehi, ehi! Sei matto? Sei matto? Siamo sopravvissuti. Molto bene. I nomini! Finalmente siamo salvi, nomini, andiamocene. Oh! La prigione. Sembra che il canarino sia fuggito dalla sua gabbia. Abbiamo appena completato la prima parte. Siamo fuggiti dalla prigione. Il gioco ci fa sapere, tramite un achievement, che di fatto era una prigione per bambini. Quando c'è la live io devo correre di sopra nello studio. Faccio più o meno così. Le scale sono così. Eh? Ti ha già visto? T'ha già visto? Cosa hai fatto? Dove sei andato? Maledetto! Mamma mia, ti prendo e ti butto di sotto. Una promessa. Eh! Gran pezzo di merda. Quindi? Ah, c'è la pressure plate! Non l'avevo notata. Ma che cazzo? Credi che io non ti abbia visto? Eh? Sciocco e sereno. Abbiamo una ripresa? Oddio! Sono delle telecamere. Cosa c'è nel sottofondo? Niente, è la nebbia che gira, il fumo. Hanno messo una candela in uno stivale. Questi nomini. C'è uno strano tizio che dorme nella mensa. Nella dispensa, anzi. Delle scale elegante. Sembra che qualcuno stia cucendo. Una sagoma simile a quella che abbiamo visto all'inizio. Ora, piccolo aneddoto. Non vorrei dire cazzate. Ma credo che sia il posto giusto per dirlo. Come tanti videogiochi. Che hanno lore. Che hanno cose molto interessanti. Anche Little Nightmares ha sofferto di cat content. Quindi contenuti che sono stati rimossi per svariate ragioni dal gioco. E non poi trasformati in DLC. Ma proprio rimossi e basta. E apparentemente doveva esistere nel gioco un personaggio che va allo scopo di spiarti. Penso che questa stanza sia una sorta di reminescenza di questo personaggio che doveva esserci. E quindi ci sono nella struttura, diciamo, queste telecamere, questi occhi. E dietro all'occhio però... Chissà. Un sistema di controllo. Apparentemente non vogliono proprio che questi bambini scappino. Io voglio troppo prendere quel nomino e lanciarlo di sotto. Come si fa? Oddio. Eccolo. Per la gloria. Per il meme. Per la scienza. Si può fare? Si può fare. Addio, nomino. Grazie. La tua vita... Mi è stata utile. Mi ha donato un secondo di goliardia. Abbiamo dato più valore in questo secondo della tua vita di quanto non ne avresti dato a te. In tutta la tua esistenza. Ah, guardate qui sopra. Questo tetto ha vaghi, vaghissimi dettagli che ricordano un tetto orientale. Un'architettura orientale. Che cosa sta succedendo? E guardate quanto sono alti i mobili. Mamma mia, che è tutto così bislungo. E c'è un quadro, un ritratto di un personaggio simile... Al tizio che abbiamo visto prima. Aspetta, prima... Aspetta, prima... Aspetta, prima... Non so se state vedendo Il ritratto che c'è qui Non ci facciamo domande ovviamente Ok qui Necessitiamo di una chiave Per procedere Quindi Non è appesa qua dietro Non vero Questo ritratto vi sembra brutto Ma è tipo Io quando voglio farmi una foto Che mi sento carino Faccio la foto La foto due punti Così Ci sono anche quadri di nomine Poi c'è un tipo Un coso con dentro un occhio Che ti guarda Vabbè Tutto sempre molto inquietante Allora Allora Tecnicamente Arrivato qui Devo forse andare sulla tubatura Sulla trave Sulla trave in realtà Non so Cadendo ho visto Cosa devo prendere Va bene Dobbiamo un attimo ripetere Questa cosa Grazie a quelli è Grazie a tutti Sulla Grazie a tutti Voglio vedere se è collezionabile Sì però Devi Te lo meriti Te lo meriti Di spaccarti Tibia e perone In questo modo Te lo meriti Basta il collezionabile Credo che non ci fosse già più Allora Teoricamente Come faccio a scendere Senza farmi malissimo Ok se ti vuoi vociare Ma è fuori di casa Così Chiave Notare quanto la chiave è grande Ok Questa cosa Scusa me la sono ricordata Sennò sarebbe stato un puttanaio Permesso? Salve Teoricamente Scimmia Mi serve Io non so perché ma Voglio nascondermi qui dentro Perché c'è un nascondiglio Mi ricorda qualcosa Non lo so Vediamoci qui No ok chill Se forse dobbiamo tornarci Poi qua Oh no Ragazzi La cagarella Ci siamo mangiati Il pane marcio Il cagotto Io quando apro le tendenze di youtube Sì sì In realtà Probabilmente ha fame Il vod della live Viene pubblicato a fine live Cash Dovrei aspettare un attimo Della carne Succulenta Bellissima carne Sospetta Ma Pregiatissima carne Palesemente una trappola Ma Interessantissimo pezzo di carne Bene Bene Spero che questa Prima live Di Little Nightmare Se vi sia piaciuta Sarebbe un bel momento Per staccare Sarebbe stato perfetto F in chat Per il bambino Che è stato Portato via E BLF In realtà è un ottimo Punto dove Fermarci questo Siamo stati Catturati E non siamo gli unici A essere stati Catturati Come vedete Non eravamo scappati Da Quello strano Uomo Che Sembrava gestire La prigione E ora siamo tornati In gabbia Per la fame Ora Partirà Una sezione Di un inquietante Pazzesco Ma effettivamente Si è fatta una certa Quindi ce la giochiamo Bene Senza interruzioni La prossima volta Perché se iniziassi ora Sarebbe molto Spezzettata Meglio lui che noi Vabbè Che saggezza Noi ci vediamo Domani Pomeriggio Alle 16 Con la prossima live Non è detto che ci sarà Perché potrebbero Uscire annunci importanti Quindi Vi aggiorno Il prima possibile Ma teoricamente Domani alle 16 Quindi Signori Signore Buonanotte Fate sogni sereni Nonostante tutto Noi ci vediamo domani Quindi alle 16 Ciao a tutti